L'ipotesi rilanciata due settimane fa e poi accantonata torna adesso la ribalta. I lavori preliminari per i cantieri sotto il viadotto Imera della 19 inclinantosi dopo lo svincolo di Scillato a causa dell'avanzare della frana della collina di Caltavuturo sono iniziati ma non procedono secondo la regione con eccessiva velocità. In questo momento precisa l'ANAS che monitora l'impegno delle tre ditte che si sono aggiudicate gli appalti si sta procedendo allo spostamento di tutte le reti ai carotaggi per iniziare i lavori di definizione del tracciato del bypass che a fondo valle consentirà poi di risalire sulla carreggiata in direzione Catania. Tempi ancora un po' più lenti per le operazioni preliminari per la successiva demolizione e ricostruzione del viadotto Imera sempre in direzione Catania. Resta invece integro seppur monitorato il viadotto che corre in direzione Palermo. Il cronoprogramma è rispettato dicono ANAS ditte regione ma gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo e questo potrebbe far slittare soprattutto i tempi di consegna del bypass. La regione adesso non esclude il ricorso ad un terzo turno di lavoro quello notturno. Ho convocato il direttore lavori e imprese proprio per fare il punto di situazione dove è possibile favorire la risoluzione dei problemi concreti relativamente all'organizzazione del lavoro. Sicuramente nonostante siano ancora nel cronoprogramma non siamo del tutto soddisfatti. Vogliamo che si acceleri perché poi gli imprevisti arrivano sempre e quindi vogliamo che assolutamente sia accelerato il lavoro e intensificato. Si parla effettivamente di che tempi? I tempi sono quelli del cronoprogramma però noi vorremmo accelerare su quel cronoprogramma. non è detto che il cronoprogramma non possa essere accelerato, bisogna aumentare macchinari, bisogna aumentare operai e soprattutto passare a triplo turno.